Si chiama Password, la nuova produzione di TV1 Donna, canale del digitale terrestre e della grande famiglia di TV1. Una rubrica quindicinale di letteratura curata dalla poetessa Patrizia Tocci che andrà in onda in prima assoluta questa sera alle 22 su TV1 Donna e domani, giovedì 29 settembre, alle 16 su TV1. Un appuntamento con la cultura. Password è una parola chiave che accompagna all'interno del pensiero e della sensibilità di tanti scrittori di cui scandaglieremo opere, racconti e poesie. Password perché con una parola chiave, con una parola che può essere diversa di volta in volta rispetto alle diverse trasmissioni, vorrei accompagnarvi all'interno del pensiero e della sensibilità di alcuni scrittori. Grazie per la visione!